ben ritrovati sul nostro canale amici oggi vi preparo i biscotti delle feste gli ingredienti per questa ricetta sono 250 g di farina 00 un uovo 50 g di zucchero un cucchiaio di miele 50 g di gocce di cioccolato 125 g di burro un po di essenza d'arancia e poi ci serviranno degli stampini per fare gli scocchi tagliato a pezzetti burro lo andremo a lavorare con la farina una volta lavorato bene il burro con la farina aggiungeremo l'uovo poi aggiungiamo lo zucchero il miele poi aggiungo l'essenza le gocce di soccolato e incomincio l'impastato poi formiamo un panetto lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo lasciamo riposare per 30 minuti in frigo trascorsi 30 minuti stendo l'impasto con un po di farina e inizio a fare i biscotti una volta data la forma ai biscotti inforniamo a 180 gradi per 20 minuti ecco i biscotti pronti per essere gustati se la ricetta vi è piaciuta cliccate mi piace alla prossima